Salve, benvenuti o bentornati, io sono Salvo e oggi prima giornata di primavera, primo video di primavera dove facciamo il video fuori all'esterno, spero che si senta bene, c'è un po' di vento, però spero che vada bene rubrica giardinaggio, andiamo a vedere oggi cosa ho comprato ho comprato grazie a un coupon di Vevor che mi ha lasciato gentilmente un coupon un tagliasepi angolari, quelli estensibili, perché mi serve per tagliare delle siepi ok, ora andiamo a fare l'unaboxing, andiamo a vedere che cosa c'è e vediamo cosa troviamo ok, ragazzi, cosa dirvi? a questo punto vi chiedo di iscrivervi a questo canale qua sotto, lasciare un like verso sopra iscrivetevi a tutti i miei canali Telegram, Telegram discussioni e Telegram delle offerte ci sono state delle bellissime offerte in questi giorni ho comprato anch'io un sacco di cose sono anche su Instagram e su Facebook ragazzi, che dirvi? e ora sigla! ok ragazzi, andiamo a fare l'unaboxing di questo scatolone vevor enorme un tagliasiepi a batterie angolare ho voluto provare anche perché incominciamo ora a fare lavori di giardinaggio nelle nostre villette quindi di domotica per ora lasciamo stare nel senso che per questa rubrica non va bene ma questa è la rubrica del giardinaggio quindi è arrivato il periodo dove devo andare a fare i nostri lavori di giardinaggio perché la fai da te e anche il giardinaggio ok, aprendo il nostro scatolone troviamo subito subito una busta della vevor con manualetto una cinghia per penso che serve per mettere a tracorlo un paio di guanti ottimi guanti sono di cotone bene bene ci danno anche gli occhialini per non farci andare niente negli occhi ottimo in tutti casi vi lascio sempre il link qua sotto in descrizione qua c'è una scatola in questa scatola avviamo la batteria andiamo a vedere questa batteria la batteria è di 20 volts 2 ampere al litio milioni di litio scusatemi 20 volts 40 watt ore spero che sia carica si può vedere? la batteria è carica ora poi vi faccio vedere ok poi ci abbiamo ancora qua ci abbiamo un'altra scatolina questa è la scatola dove c'è il trasformatore il caricabatterie della nostra che già fa un po' di rumorino ma penso che sia un po' di plastica che va agganciata così poi andiamo avviamo questo è il manico dove va agganciato qui la batteria e da quest'altra parte non c'è più niente no diciamo così ok da quest'altra parte abbiamo il nostro decespugliatore angolare con la possibilità di poterlo ora poi lo controllo come funziona questo serve per inglinare e questo serve per agganciarlo al nostro al nostro gruppo ora preparo tutto lo monto e vediamo come funziona ok andiamo a vedere come si monta allora prima cosa il manico c'è questo fermo che è bello rigido così questo qui così lo andiamo a agganciare ci sarà anche un verso sì c'è un verso praticamente potete solamente agganciarlo in un verso così attaccate questo lo avvitate e l'estensione del manico se non mi ricordo male dovrebbe essere fino a 4 metri quindi lo apriamo così no diciamo che se c'è un altro manico sì ci abbiamo vedo un po' mollo è pesante è pesantuccio così da questa parte forse ci vediamo allora di essere pesante ragazzi è pesante perché il motore si fa sentire questo c'è scritto qua blocca e così abbiamo bloccato ci manca solo di andare a mettere la batteria vedere se funziona andiamo a prendere la batteria la batteria si va a collocare qua e ora se tutto va bene si schiaccia qua qua sopra e va ci tocca solo andarla a provare lo andiamo a provare e andiamo a testare se funziona a dopo ok ragazzi andiamo a provare con questo tipo di siepe che si è ingrandita un poco magari vediamo come taglia allora mi sono munito degli occhialghi che mi hanno dato i guanti magari i guanti li cambieremo perché non mi piacciono e andiamo a fare questa potatura vediamo se riusciamo possiamo cambiare il nostro il nostro angolo quindi ci possiamo stare anche più distanti ok via sembra che funzioni abbastanza bene che ci sono Grazie a tutti. 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 Ogni tanto si è bloccato però poi è ripartito subito perché ovviamente se prendete la mette già più grossi da 16 non è di quelli professionali ragazzi. Però per il prezzo che abbia. Io l'ho preso con tutto il coupon 90 euro, mi ricordo, vi lascio qua sotto il link dove andarlo ad acquistare. Ho fatto un'ottimo lavoro. Ora andiamo a vedere la batteria dopo tutto questo, mettete che erano 4 tacche, io già ne avevo 3 sole perché la batteria non era proprio carica. Andiamo a vedere ora, andiamo a vedere la batteria, ok ragazzi, la batteria 1, 2, 3 tacche erano a 3 tacche quando l'ho presa perché era già un pochettino scarica. Andiamo a vedere la batteria. La cosa bella di questi attrezzo che è un'ottima cosa bella di questi attrezzo che è un'ottima cosa bella di questi attrezzi che possiamo ricaricarlo anche con i nostri dispositivi solari. Praticamente questo è collegato al pannello solare, ora non sta caricando niente solare 4 watt e non sto consumando corrente di casa quindi sto utilizzando la luce del sole. Praticamente sto caricando e sono a 26 watt, entrano 4 watt da pannello solare perché ma c'è l'ombra e lui sta caricando la mia batteria. Perfetto ragazzi, una cosa che mi piace è questa anche, usiamo l'energia solare, ottimo. Allora ragazzi, il macchinario da qua pesa, pesa tanto, quindi dovete avere una bella forza nelle braccia perché è pesante, poi una volta che prendete la mano e vai veloce, rapido. Che dirvi, mi è piaciuto, mi è piaciuto veramente questo tagliasiepi, complimenti, complimenti alla Vavor, ottimo. Ok, andiamo alle conclusioni. Allora ragazzi, scusate se sono così tutto sudato ma ce n'è voluta, sono un po' sudaduccio. E niente ragazzi, prodotto ottimo, mi piace, vi lascio il link qua sotto in descrizione se lo volete andare a acquistare, volete andare anche a provare voi stessi. Niente, io ringrazio a voi che siete stati qua a vedere questo video finora, se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto in fiducia, iscrivetevi qua sotto o qua sotto, non lo so, vi lascio, c'è l'icona rossa, cliccatevi così vi iscrivete. Registratevi anche il mio canale Telegram e Telegram Discussioni dove ci sono anche queste cose in offerta. Ragazzi, che dirvi, io vi ringrazio e vi lascio a un prossimo video. Ciao, grazie.